Buongiorno mister, le chiedo un commento sulla lista dei convocati, c'è Barak, è recuperato a pieno? Ragazzo è recuperato, è normale che viene da 15-20 giorni pieni di inattività e quindi dobbiamo portarlo con il minutaggio a giocare senza rischiare magari una ricaduta, quindi dobbiamo essere cauti, per adesso sta con noi, vediamo quale minutaggio è fattibile per lui. Oltre a Dell'Orco, Farias, Maier, De Iola, a questi si è aggiunto l'infortunio di Lapadula per il quale l'esito della risonanza ha escluso il peggio, quali sono secondo lei i tempi di recupero? Non lo so, questa è una domanda che va apposta più allo staff medico, obiettivamente non so darti una risposta delle tempistiche. Sebbene i numeri limitati, scelte quindi ancora obbligate o può pensare a qualche variazione in considerazione delle gare ravvicinate? La rosa nostra è questa e purtroppo come ho detto giocare ogni tre giorni per noi non è un vantaggio e in più si aggiungono dei piccoli acciacchi e dei piccoli infortuni. Giocare ogni tre giorni vuol dire anche riuscire a metabolizzare degli acciacchi molto più velocemente a livello mentale. Per noi è molto dura, l'elenco dei indisponibili l'hai detto tu e su una squadra che ha 20 giocatori di prima squadra se ne elevi 5 o 6 capisci che diventa difficile fare anche troppi cambiamenti o determinati cambiamenti, però quelli che ci sono mi danno ampia disponibilità e cercherò di mettere in campo una squadra equilibrata cercando di fare una partita attenta. Dopo la gara con il Milan avete avuto poco tempo a disposizione per analizzare quanto è accaduto e riprendere a preparare il prossimo impegno. Avete avuto modo di analizzare nello spogliatoio il risultato? Le chiedo, i ragazzi hanno colto il suo messaggio nel post-gara con il Milan? L'analisi quando si gioca ogni tre giorni bisogna sempre pensare a quella dopo, non c'è molto tempo per guardarsi indietro. È normale che con lo staff l'abbiamo valutata, l'abbiamo analizzata e cercheremo di fare degli accorgimenti sulla squadra. Io credo che la squadra mi conosce bene, sa quanto io stimo loro e quanto delle volte devo cercare di toccare le corde per mandarli oltre quello che sono le loro possibilità. Questo ce lo siamo sempre detti tutti quanti noi per poter mantenere questa categoria dobbiamo fare qualcosa di straordinario. L'ordinario individualmente non ci basterà mai. E quindi delle volte c'è questo, ma loro sanno benissimo, e questo non ho bisogno né di pubblicità, ma sanno benissimo che io per loro mi butterei nel fuoco. Quindi sono i giocatori che ho scelto, sono i giocatori che ho voluto, sono i giocatori che ho mantenuto da chi parte dalla Serie C fino alla B e oggi in Serie A. sono tutti scelti da me, non c'è un giocatore che non ho voluto io, senza il mio avallo, insomma col direttore, quindi è la squadra che non ci sono giocatori di chi o di altri, ci sono tutti giocatori scelti da me e quindi la fiducia è massima. È normale che delle volte pretendo il massimo, per me bisogna andare sempre oltre, ho delle aspettative alte da me stesso e le ho anche dai miei calciatori e da tutti quanti, quindi delle volte credo che sia giusto toccare delle corde, ma questo non vuol dire assolutissimamente che la fiducia che avevo dopo Torino, Napoli e Spalle, una sconfitta me la fa perdere. Lei ha sempre il termometro della situazione, qual è il morale della squadra? Il morale non può essere alto, quando si perde 4-1 in casa non può essere alto. Ma noi abbiamo una forza che è quella, tra virgolette, che è dalla prima giornata che viviamo così, quindi l'abitudine a lottare, a cancellare le cose negative, a pensare alla partita prossima, questa è stata sempre la forza di questa squadra, quello che è passato non si può cambiare, noi dobbiamo cambiare il presente e il futuro. C'è di positivo che i risultati di questa giornata appena giocata non hanno cambiato di tanto le posizioni in classifica, anzi nella zona bassa quasi invariate? Per me fino a quando, come adesso e sarà così per molto, fino all'ultima partita qualsiasi risultato mio mi può portare ad una possibilità, io credo che la squadra deve rimanere sempre viva, deve credere in quello che fa, l'obiettivo è vicino, non siamo lontani, lotteremo con tante altre che lotteranno come noi, ma io sono convinto che questa squadra ha i margini, le possibilità e gli scontri diretti per poter tirarsi fuori. Venerdì sera potremo vedere giocare insieme ancora dall'inizio Mancosu, Falco, Saponara con Babacar a punta centrale? Le disposizioni che faremo a Torino varranno valutate domani perché comunque quando si gioca così fino alle ultime ore prima della partita si fanno delle valutazioni e quindi questo diventa oggi difficile per me dare delle idee sulla formazione, valuteremo il recupero di tanti giocatori, è la seconda partita, qualcuno sta un pochino meglio, qualcuno deve recuperare ancora un po', quindi per avere un'idea della formazione ci vuole proprio le ultime ore. Sempre in tema formazione, cambierà modulo o pensa di poter cambiare modulo in difesa, nello specifico Rossettini può tornare dal primo minuto? Il modulo sì, sono delle possibilità, ma io credo che più che i moduli contano gli uomini, i calciatori, quindi Rossettini dopo il lockdown ha avuto anche un problemino fisico e ha saltato un po' di allenamenti e quindi sta cercando di recuperare la condizione, è una possibilità, lo è sicuramente anche per le prossime partite, come ho detto prima una rosa come la nostra dove oggi partiamo per Torino in 14 giocatori di movimento di prima squadra, credo che lo spazio in queste 11 partite ci sarà per tutti. Che Juve si aspetta avendo visto anche se le ha viste le partite tra campionato e Coppa giocate dai bianconeri? La Juve è la Juve, la Juve a prescindere da chi ha davanti vive per vincere sempre e comunque, e quindi sarà una Juve che vorrà chiuderci, mettere subito la partita in discesa proprio perché hanno la qualità e la mentalità per poter poi gestire le partite, quindi chi ha questa forza proverà a fare la partita che spera, cioè sbloccarla velocemente e gestirla. Noi dobbiamo essere bravi a creargli qualche difficoltà, creare le difficoltà a questa squadra vuol dire essere compatti, vuol dire non concedergli palle tra le linee che sono molto bravi nelle triangolazioni, nelle giocate 1-2 e quindi dobbiamo creargli delle difficoltà e farli giocare sporchi non come vorrebbero loro. Grazie a tutti.